Nello Musumeci si appresta a diventare il nuovo presidente della regione, il candidato del centro-destra supportato dalle liste Unioni di Centro, Forze Italia, Popolari e Autonomisti diventerà bellissima e Nello Musumeci presidente che mette insieme Fratelli d'Italia e Noi Consalvini ha conquistato alle 13.30, quindi con risultato parziale, oltre 170.000 voti pari al 39% con 1.300 sessioni scrutinate, quindi all'incirca il 30% del totale suo antagonista diretto, come era già stato pronosticato alla vigilia dai numerosi istituti di statistica, il candidato del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri che si è fermato allo stesso numero di sezioni scrutinate a 153.000 voti pari al 35%, nettamente staccati poi tutti gli altri Fabrizio Micari a cui sono collegate quattro liste, Alternativa Popolare, Micari presidente Partito Democratico e Sicilia Futura PSI ha racimolato il 19%, seguito poi da Claudio Fava della lista Centro Passi al 6% e da Roberto Larosa con l'unica lista Siciliani Liberi che è rimasto inchiodato appena allo 0,7%. Per quanto concerne l'assegnazione dei seggi per l'elezione dei deputati regionali che saranno 5 in provincia di Trapani dopo il taglio del Parlamento che sino alla scorsa legislatura ne esprimeva 7 in questo territorio diverse sono le liste che non hanno superato lo sbarramento del 5%. Ovviamente ce l'ha fatta il Movimento 5 Stelle niente da fare invece per le liste di Fava e Larosa, Micari invece vede premiate solo PD e la lista unificata Sicilia Futura PSI stessa cosa per Musumece, cioè solo due liste vedranno leggere propri candidati, si tratta dell'Unione di Centro e Forza Italia ad Alcamo il trend nelle poche sezioni scrutinate, siano alle 13.30 dei singoli candidati in lista ha visto in particolare spiccare tre nomi, Valentina Palmeri del Movimento 5 Stelle nettamente in vantaggio e viaggiare oltre le 150 preferenze per singola sezione, all'incirca tra 50 e 60 invece i voti il trend per l'ex sindaco Giacomo Scala e il deputato regionale uscente Mimo Turano quest'ultimo va oramai all'elezione sicura dal momento che è inserito nel listino del presidente Musumece e quindi di diritto a un posto assegnato negli scranni dell'Ars. Sulla ripartizione invece dei vari seggi i calcoli saranno tutti da fare, infatti per la certezza bisognerà aspettare la media ponderata sul calcolo dei resti su base provinciale, dunque potrebbe anche scattare un secondo seggio al Movimento 5 Stelle che è la singola lista più votata che viaggia sulla soglia del 30% delle preferenze seguita poi dal PD che è al di sotto del 23%. Grazie Grazie